Ciao, chi ha detto che per fare outdoor education c'è per forza bisogno di avere a disposizione gli urte mongole, boschi incontaminati e orti sinergici? Io sono qui per dimostrarti che non è vero il web pullula di attività strutturate da fare con i bambini anche all'aperto. Ma qui sorge un problema, non il cosa fare, ma il come farlo, come si sta all'aperto. Forse a questo punto ti stai chiedendo, ma come faccio a fare outdoor education se non ho neanche un balcone o un piccolo giardino? Grazie per la visione!